Questa cagnolina che vedete spaventatissima, che sta tremando, si chiama Bianca, lei è un nuovo arrivo dell'ao, è arrivata da due giorni circa, è molto timorosa piccolina, ha solo due anni Bianca, è poco più di una cucciola, è una taglia media ma è spaventatissima, non so se riuscite a vedere come trema piccolina, è proprio spaventata, lei sta cercando una famiglia povera piccola, si trova qui al rifugio Baudiniano, guardate che musetto, guardatela un po' se non è un amore, però ha tanta tanta paura lei, per questa cagnolina qui ci vorrebbe praticamente un'aduzione o con un altro cagnolino o con una famiglia che avesse un attimo la pazienza e l'affetto per farle capire che gli esseri umani non sono tutti così cattivi, lei sicuramente non avrà avuto un passato felice se è così spaventata dagli esseri umani, guardate che amore, venite a conoscerla, si trova qui al rifugio Baudiniano, si chiama Bianca, guardate questo musetto, Patatina non può rimanere qui in gabbia, venite a prenderla, è spaventatissima da tutti gli abbai dei cani, vi aspetta!